Oh oh, è successo qualcosa? Mami ha allungato troppo le sue manine Oh ma sono qua, sono qua! Sono una qui sotto e l'altra qua sotto! Cosa sta succedendo? Quante mani ci sono nere lì sopra! Oh mio Dio Possiamo uccidere Mami Long Legs E ho visto che c'è... Questo è un jetpack Che cos'è? Voglio prenderlo! Il jetpack! Così possiamo raggiungere i punti Per 100 Bobux Diciamo che asse... Non ci creda! Sto volando! L'unico problema è che volando verso l'alto Si incontrano sempre le ragnatelle di Mami Long Legs Ora vediamo che cosa hanno aggiornato Mi avete detto che c'è Bunzo Banni La scorsa volta abbiamo fatto l'avatar di Bunzo Banni Ma senza aver successo Nel senso non l'abbiamo trovato qui Ma oggi vediamo se riusciamo a trovare Bunzo Banni Se l'hanno fatto più bello Del nostro avatar di Roblox Questa è la mamma di Locchino Ma qui aggiungono quelli di youtuber Io non ci sono! Bunzo Banni! Esiste! Ok 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 Dobbiamo trovare Bunzo Banni Se vi ricordate Noi avevamo già trovato PJ PJ purtroppo costava soldi veri E i soldi me li devono ridare Perché Si incastra ovunque Mi hanno chiuso la porta in faccia Lasciate un mi piace per il piccolo PJ Guardate quanto è lungo Oh ma c'è Mami Long Legs Aiuto scappiamo! È arrivato il momento di equipaggiarci il nostro Woof! Woof! Il nostro jetpackino Oh scusate Ho mangiato un po' da più fagioli Notate qualcosa di diverso in me oggi? Beh ve lo dico io Ho la maglia bianca Mai fatto un video con la maglia bianca Oh! Stavo dicendo Perché questo muro è rotto E nessun altro muro è rotto Possiamo passarsi attraverso Abbiamo trovato una scritta C'è scritto trova il bottone Lo trovo tutto! Dov'è il bottone? Apri Apri Come ci passo? PJ pensaci tu! Vai PJ! Che incastrati dentro! Dov'è la testa? PJ non va! Forse è qui da qualche parte Non lo so Vai ti spingo io! Condor! Vai! Ti spingo! Vai! Ci torneremo È già Bunzo Abbiamo trovato Bunzo Questo è uno dei piatti Di Bunzo No Cos'è? Ha il biscotto Va bene È arrivato il momento di trasformarci Nell'emorfo che abbiamo preso Quindi abbiamo appena trovato Che numero è? 456 Il protagonista di Squid Game Il bottone non l'abbiamo trovato Ma adesso andiamo a prendere Bunzo Bunny Che dovrebbe essere qui Dopo l'aggiornamento che hanno fatto Dovrebbe sicuramente esserci Entriamo nello sgabuzzino dei grabbuck Ce l'ho anch'io Vediamo un po' Nel Waka Wagi Che non ci siamo mai stati Cosa possiamo trovare? Tutte queste faccine Piene di buchi Con gli aggi wagi Che stanno uscendo Non mi piacciono Quindi proviamo ad aprire qui Non riesco a trovare niente Qui se non Mammi Longlegs Spaziale Astronauta Longlegs Se lo sapessi come Ah! Bastava far così Per aprire la porta Vediamo se qualcosa C'è dietro le scatole Che mi stanno rompendo Perché io voglio Ma no Ah questa è una nuova zona Non l'abbiamo È quella che abbiamo visto Nel trailer Ci stavano dicendo Vai verso questo posto Vai verso Se vedi questo posto Bacci Cos'è questo? È questo È questo È Bunzo Sì L'abbiamo trovato Mi ci voglio subito trasformare Eccolo Pensavo sarebbe stato Molto più difficile Trovarlo Invece ce l'abbiamo fatta subito Bunzo Fa ting 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 È il concerto di Bunzo Avete pagato il biglietto E il biglietto si paga Con un mi piace Se no non potete ascoltare Questa bellissima melodia Di piatti Che vi spaccano le orecchie Ora Apriamo questo posto Ed è proprio Dove viene uccisa Mami Longlegs Non c'è niente Se non questa stanza È tutto chiuso Ma Cosa mi è servito Venire qui? Non posso neanche Tirare la leva? Non posso tirarla Oh Neanche così Oh Forse se tengo premuto Dai Tira 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 Poi finisce Che mi rimane Dentro la mia manina Del grab pack E ci muoio Io triturato Bene Riapriamo E ce ne torniamo via Ora Dove si può andare? Questo posto È dove c'è il Waka Wagi E questi saranno Delle Morph Sicuramente Cos'è? È una coda? O è di Tails Oppure è di No è di Tails Di Sonic Ma allora ci sarà Anche Sonic Longlegs Non posso entrare Nei tubi Dai Sono piccolino Non posso andare Qui dentro Aspetta Questo è aperto Abbiamo scoperto qualcosa Non è servito a niente Se voi ne vedete altro Ne sapete altre Scrivetemene nei commenti Se io Magari sono andato In alcuni posti Non lo trovate Ma ora Torniamo indietro Perché c'è un'altra stanzina Da cercare E qui ci sono i vecchi Grab pack Qui abbiamo trovato Un'altra Morph Questa qui è di Lankybox Lo tengo a scoprire Che tengo sempre Quel pupazzo in mano Non so perché E qui non posso passare Dai Che pezzo Sono solo degli sgabuzzini Va bene Allora torniamo indietro Quindi qui ora Siamo nella Game Station Hanno aggiunto un'altra Morph Qui vedo sbrilluccicare Che cosa sei tu Non so È tutto bianco Non capisco perché Sia tutto bianco Abbiamo trovato Baby Long Legs Sembra la sorella Di Locchino Sister È la sorella Di Baby Long Legs Proviamola subito Questa è Baby Long Legs Questa è la sorella Che è Baby Sister Long Legs Mamma mia Forse era meglio Se non la trovavamo Cos'è? Incidente del treno Il treno ha smesso di funzionare Al momento gli ingegneri Lo sanno Risparando Oh 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 Cosa abbiamo trovato Qua sopra? Oh 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 Abbiamo trovato un Pop Cat Abbiamo trovato un gattino Long Legs Qua posso per favore Entrare? Grazie mille Non mi ricordo Se ci siamo già entrati Qui dentro Ma sicuramente Non vedo qualcosa E avranno aggiunto Altre Morph Da collezionare Oh 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 Questo non me lo ricordo Forse serve questo grab pack Oh Sì Funziona Ci riproviamo Vai Vai No Starò qui un'ora Lo voglio fare No Ah ciao Sei quella di prima Beh i capelli Sembrano i miei Oh mamma Sei tutta bianca Devi prendere un po' di sole Aiuto No Ho capito Così E poi così Sì Sono un genio Oh Questo qui È la stanza di Elliot Colui che ha creato La Poppy Playtime Il dirigente Questo è un po' sospetto È un Among Us È Mammy Long Sass C'è un Suss lunghissimo E anche il tempo di raccolta È molto lungo Perché Suss verde? Sembra non esserci più nulla Se non quel Suss Andiamo un pochino più veloce Grazie mille E l'ascensore dove ci porta Su o giù Secondo voi siamo su o giù Ma cos'è? Ah ce ne avevano stati già l'altra volta qua E hanno aggiunto anche I camerini Non so perché Ma ci sono questi spogliatoi qua E dentro gli spogliatoi Ci sarà sicuramente Qualcosa da aprire Ci sarà qualcosa Con una combinazione Magari con un lucchetto O con un locchino Dai non c'è niente Oh Non c'è niente C'è qualcosa È una mano che sta uscendo Da dove esce? C'è qualcuno intrappolato Daddy Long Legs Finalmente Vi ricordate il vecchio Daddy Long Legs Che era solo un uomo muscoloso? Questo L'avevano chiamato Daddy Long Legs Questo qui Ma vi pare Daddy Long Legs? Questo È il vero Daddy Long Legs Siamo pronti Per andarcene Credo non ci sia più niente qua Se mi dimentico qualcosa E voi ci avete già giocato Ditemelo sempre nei commenti Torniamo umani Giusto Ora posso prendere questo Senza fare il parkour Perché sono uno scansa fatiche Abbiamo preso Adiwaghi di Turning Red L'avete visto il film? Io sì Ho quasi pianto E di qui dove si va? Oh Questa è una zona nuova Non ci siamo mai stati Oppure siamo arrivati da qua? No Non siamo arrivati da qua Oh c'è un fantasmino Come si prende? Ah l'ho già preso Mammi La Greg's fantasma La voglio vedere Ma questa è inquietantissima Come si prende? Il fantasma Guardatelo I fantasmi possono spaventare I fantasmi Voi ci credete I fantasmi? Oh Abbiamo trovato Aspetta Questi bottoni Sappiamo come premerli ora Non sono delle luci rosse Ah Fammi salire Guarda Se non mi fai salire Ok ho capito Va bene Io scendo Prendo questo E lo apro Andiamo nell'elettricità Ah Ok Ok Va bene Va bene Va bene Rifaccio tutto Vado qui Apro Vado qua E siamo attenti A questo percorso Molto C'è una cacca E mammy long cacca Come si prende? Ah non farmi cadere Come posso Sire qua sopra? Ok Ok No Mi aggrappo così E poi la collezione E poi la collezione Sonic I Sonic Mi hanno fatto Lo so Strana E ci dice E ci dice di guardare Quella è una morf E' legale Però Andiamo da poppy Vediamo Poppy non c'è Che fine ha fatto Ah giusto il capitolo 2 Poppy non è più qui Ma abbiamo trovato Angel long legs Ma un long legs Angelo Mi stiamo sbloccando tantissime Vi sta piacendo questo video? Se vi sta piacendo Lasciate un mi piace Perché ne stiamo trovando Veramente tante Io aspetto a fare i video Perché faccio i video Quando ci sono tantissime morfe Almeno i video Vengono più lunghi Vengono più divertenti Spero Con tante morfe Da provare E da trovare Tipo questa cassetta Un SCP E' una tessera No E' 096 E' lo Shy Guy Cosa ci fa qui dentro? Secondo me lo Shy Guy E' tutto bianco E ce ne andiamo Ma qui posso entrare? No le fogne ancora no No Sicuramente tutte quelle Paurose saranno All'interno delle fogne Oh ho trovato qualcosa Che cos'è? Ho trovato qualcosa Sì 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 Sono degli occhiali Che occhiali sono? Scusatemi E' il nonno long legs Che mangia i broccoli Vi ricordate questi? Sono dei broccoli Praticamente Vi ricordate che Aggie Zombie Era qui da qualche parte Lassopra Eccolo E teoricamente Bisogna farlo Legittimo Ma noi abbiamo Il jetpack Che sta solo 100 Bobux E abbiamo preso Agile di zombie Vedo qualcosa Lassopra C'è qualcosa Che non ho mai visto Prima d'ora Che cosa sei tu Cappellino blu No Il conduttore del treno Ma allora Dov'è la morfa del treno? Dovrebbe essere qua Da qualche parte Questo posto Non l'abbiamo mai visto La motosega Sì Abbiamo capito Abbiamo capito Cosa serviva La motosega Per questa porta E cosa prendiamo? Jason a questo punto Ma il long jason L'assassino Questo ha due teste Ma che cos'è? Ce ne mancano pochissime Non vedo l'ora Di fare il prossimo episodio Se non vedete l'ora Anche voi Iscrivetevi Così che non ve lo perdete Lasciate un bel mi piace Per dirmi se Vi piace questa modalità Da lo che è tutto Ciao